Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia dell'NBA per la stagione 22-23, la City Edition degli Spurs in edizione Swingman. La maglia Spurs City Edition Swingman 22-23 unisce elementi di molteplici divise da sempre legate alla storia della squadra. La maglia è di colore bluacqua con rifiniture di diversi colori per colletto e orli. Sulla parte laterale è presente un bellissimo motivo geometrico in colore bianco, nero e arancio. Stampa del nome della squadra e numero 2 sul davanti, nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia DryFit la pelle resta fresca e asciutta. Questo prodotto realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%. Meravigliosa! Questa maglia secondo me è stupenda, la più bella che ho visto dell'NBA fino ad oggi. Nella mia classifica questa prende 5 stelle di una qualità incredibile. Il costo lo vedete qui sopra? Non voglio aggiungere altro, fate voi i vostri conti. Questo costo per questa maglia secondo me c'è poco da aggiungere. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie dell'NBA che vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.